Grazie alle dita di questi musicisti straordinari che con sto vento questo, freddo qui, è fortissima la cosa. Ma soprattutto, per l'annissima volta, grazie a voi e a Dio i benediti. Ma un bimbo che ne sa, se perdona non può essere data. Oh lì, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà da vera, casa mia, e quel bambino che giocava in un cortileio. Ma un bambino che giocava in un cortileio. Ma un bambino che lo sono. Ma un bambino che giocava in un cortileio. Sì, la strada ancora là, un deserto che sembrava la città. Ma un bambino che ne sa, se perdona non può essere data. Poi, una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un cammino. Non è caldo come il sole del mattino. Mi sa da vera, casa mia, e quel bambino che giocava in un cortileio. Ma un 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 bambino che giocava in un cortileio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 io Al prossimo episodio Altro figlio, solita scarolio, ma su, che rimasso figlio. Grazie a tutti che ci hanno veramente voluto qui, un abbraccio gigantesco, immenso, totale, topare! Grazie a tutti!